Di Pierfrancesco Venturi, Per vivere, voce di Lorenzo Pieri. Nel suo studio, tappato e intanfato di vecchi libri in bell'ordine, teneva quel giorno all'esame il professor Attilio Antichi, uno dei tromboni più temuti di tutta l'università. Il maestro sedeva tronfio sullo scranno alla Savonarola, con accanto, ma su una sediolina, il Servi, suo assistente, smilzo smilzo, occhialuto e pallido. Bene, signor Franchi, un ottimo esame. Facciamo solo un'ultima domanda per la Lode. Quanto pensa che la tradizione della visio mistica abbia potuto influenzare la genesi della commedia? Non poco, certamente, professore. Già nell'avvisio Paoli la commedia trova ciò che oserei dire un illustre precedente e... Il professor Antichi era di già per andare in sollucchero. Pure Anteo Franchi, forse degli studenti il migliore fra tutti, d'un tratto si fermò così, impietrito, a mezzo del discorso, senza saper più cosa dire. Mentre l'Antichi tamburellava per l'attesa con le dita sulla cattedra, Anteo stette per un pezzo, tremando, a guardarsi la punta delle scarpe, poi fissò gli occhi negli occhi al professore e proruppe finalmente... Sono stanco, sa. Mi scusi, come dice, stralunò il professore. Sono stanco, le ho detto. Franchi, farò come non avessi sentito. Su via, non si rovini un buon esame. Vede, siamo anche noi qui da stamattina presto. Come ogni giorno attendiamo alla sacra vocazione dell'arte, alla chiamata nostra e lavoriamo. Su, da bravo, ricominciamo. Risponda alla mia domanda. Qual è il ruolo dell'avvisio? Eh no, ora basta. Per quanto ancora pensate di poter prenderci in giro. Quale lavoro? Quale mistica chiamata? L'arte voi non fate che calpestarla ogni giorno. Con i vostri contributi. Contributi a chi? A che? Per quali interessi, oltre ai vostri soltanto? Mi sembra di vedere uno che sputa nel mare, vantarsi di averlo ingrossato. Di fronte ad una metafora tanto peregrina, Anteo non pote altro che scoppiare a rider della grossa, rovesciato sulla sedia, paonazzo. Fuori dalla porta erano in attesa altri studenti, che a sentirle grida e le risa così inconfuso, si guardarono tra loro strabuzzando gli occhi incerti sul da farsi. Alcuni restarono, altri, e fu peccato, se ne andarono, ed oltre allo spettacolo persero una gran lezione. Frankie, lei si deve calmare, ha capito? Eh no, professore, non ho capito, perché io voglio avere anche il diritto ad essere ignorante, il diritto a non sapere. Io voglio poter misurare la mia conoscenza, per quanto è profonda la mia voragine. Mi capisce, professore, o parlo oscuro? Mi guardi negli occhi, scavi nel fondo del suo petto impolverato, e mi dica, a che leggiova, di leggere il suo nome sulla costa dei volumi, antichi, attilio, così, in maiuscoletto, o in fondo alle pagine, dentro a quelle infinite citazioni e note, già mi pare di leggerne i titoli, alcune osservazioni sulla peluria dantesca, per un saggio della dieta manzoniana. Questo è troppo, Frankie, non glielo permetto, sbottò l'antichi. Servi, vada a chiamare il bidello. Anteo era un vero fiume in piena. Io qui dentro non ho mai imparato nulla, professore. Quando ero piccolo ancora, a scuola, leggevo sotto il banco come un ladro. Allora, con l'anima tutta alata di sogni, che non aveva e non sapeva niente, quante cose ho imparato che non scorderò mai. Ma voi mi avete tolto tutto, tutto! La belva che si era addestata dentro Anteo, Franchi, si fermò per un attimo a prendere fiato. Fu altissimo in quello sconvolgimento il silenzio. Poi riattaccò, appena un po' più quieta. Quello che scrivevo, professore, lo nascondevo per pudore, perché anch'io scrivo, sa, eppure so bene di che fumo siano fatte le parole quando ci annebbiano. Le parole sono come aria di mare, mentre ci aprono il respiro, mentre ci destano ai pensieri l'infinito, corrodono intanto col tempo e dal di dentro ogni certezza, ogni bella illusione. Così io, le parole, me le tengo a mangiarmi sì dentro e non ammorbo altri. Nello studio accorse allora non un bidello solo, ma un intero squadrone che il servi aveva chiamato. Si fecero sul Franchi per trarselo via e lui, divincolandosi, diceva ancora, inarrestabile, «Come si arriva, professore, a questo basso fondo? Ha mai letto qualcosa solo per piangere? Piangere coi lucciconi e la candela!» L'avevano tratto a forza fuori dalla stanza. L'antichi si era sporto appena al di là della porta. Anteo urlava, spandendo l'eco tra gli alti corridoi, «Ha mai letto qualcosa così? Tanto per ridere! Per vivere, professore! Per vivere!» Tornò il silenzio di sempre. Un po' ferito, il professore Antichi riavviò la camicia, rinserrò al collo la cravatta. Poi disse forte, Il prossimo!